Il libro, io l'ho definito male un bignami, male un bignami perché il bignami c'aveva quel vantaggio straordinario di permettere di portarti almeno il 6 a casa, mentre questo non ti porti neanche il 6 perché oltre a non citare Malagodi, ed hai perfettamente ragione, io non recensisco neanche un libro di Popper che invece è stato uno dei miei grandi maestri del liberalismo perché non ha nessuna presunzione di esaustività questo libro. Prendo degli autori, però hai ragione, ne prendo spunto perché ce ne sono tanti che mancano, manca certamente Malagodi, manca Popper e ne mancano tantissimi altri per la verità di grandi liberali che ho letto e che mi sarebbe piaciuto mettere, però un libro poi insomma si commettono tanti errori, questo è uno di quelli, lo cito ma non parlo della società aperta e i suoi nemici doveva meritare un capitolo che non ho, anche perché è stato uno degli autori straordinariamente liberali che poi sono stati acquisiti, un po' come Luigi e Naudi, anche in maniera universale da quelli che forse non avevano letto tutti i suoi libri e hanno preso soltanto qualche suo articolo, sul garantismo che è l'altra grande mancanza che c'è in questo libro, c'è una bellissima parte, non l'ho recensito, non è nei capitoli, c'è un grande libro di Hayek che si chiama Legge, Legislazione e Libertà che pone la questione della norma e pone la questione, mi colpì moltissimo, in termini assoluti della forza della legge rispetto all'individuo e quello è uno dei miei libri fondamentali da cui nasce la mia idea di garantismo, per la quale le critiche che tu muovi al centro-destra sono critiche sacrosante, che in una certa misura muovo anch'io e Hayek ci spiegava come alla fine se io ora esco di qua e prendo un rosso con la macchina, mi arriva una multa, poi non pago la multa, poi dopo mi fanno il fermo amministrativo dell'auto, poi dopo vado a procedere, insomma alla fine di tutta questa vicenda di banale contravvenzione per il traffico, se io non mi metto a posto c'è qualcuno che mi prende per la manica e mi porta al tribunale, quindi noi abbiamo attribuito allo Stato una capacità e un monopolio della violenza legale, questa è la cosa fondamentale. Siccome noi abbiamo dato allo Stato questo monopolio e ci siamo messi d'accordo nel darlo, dobbiamo dall'altra parte tutelare al mille per mille il rispetto della procedura che lo Stato deve avere nei nostri confronti nell'esercizio di questa violenza, dobbiamo essere molto attenti a come lo esercita, perciò il ruolo della magistratura e delle leggi e del rispetto delle leggi è fondamentale sempre che si consideri il fatto che siamo noi che abbiamo attribuito a loro questo potere e dobbiamo avere nel massimo rispetto di questo potere, quindi il garantismo non è vicenda pelosa, è vicenda sostanziale, liberale, aiechiana, non la puoi confondere con Ghedini, non lo dico contro Ghedini, ma non la puoi confondere nella contingenza della politica, ma la devi mettere nell'essenza del vivere comune di un liberale, perciò è uno degli elementi che mancano di più da questo libro, mancano perché io ho un profilo economico e quindi mi occupo molto di più delle questioni economiche che di quelle giuridiche, però la sostanza della libertà è soprattutto nell'esercizio e nella difesa dalla violenza, dal monopolio legale che ha lo Stato nell'esercizio della violenza, questo è uno dei grandi approfondimenti che ci dovrebbero essere.